Ciao amici di Sergadget, benvenuti al momento in cui incontriamo, conosciamo questo oggetto ovvero Nintendo Switch, la nuova console di Nintendo che arriva proprio in questi giorni anche in queste ore, anzi in Italia al prezzo di 329 euro, leggermente più alto rispetto a quello che si trova invece in altri paesi, sapete insomma che il prezzo ufficiale è quello di 299 euro, ma cosa c'è dentro la scatola? Allora intanto i due Joy-Con, ovvero i due controllers, poi vedremo come funzionano, il tablettino, cioè quello che è il corpo, la parte intelligente del sistema, anche questo daremo un occhio dopo che cosa esattamente è, il cavo di ricarica che potete utilizzare o sul docking station oppure direttamente sul vostro tablettino, c'è la slitta in cui mettere i Joy-Con per avere un Joy-Pad più tradizionale e poi invece i due laccetti che vengono inseriti essenzialmente sui Joy-Con per utilizzarli, per giocare nelle modalità che andremo a vedere tra pochissimo. E infine, ultima cosa che vi viene riservata, questa che è inserita in questo punto della sconfezione, ovvero quello che è il cuore pulsante del sistema, della docking station per il collegamento al vostro sistema televisivo, potete utilizzarlo in due modi, cioè in verticale, volendo anche in orizzontale se non avete lo spazio sufficiente per porlo, esattamente come Nintendo invece lo consiglia, ovvero in posizione verticale. Vedete possibilità di agganciare due USB, invece sulla parte posteriore abbiamo un'altra presa USB, l'HDMI e l'attacco per la USB Type-C per la ricarica. Allora, le modalità di gioco sono diverse, cioè una è quella essenzialmente modalità console, quindi inserite il vostro tablet in questa posizione, lo collegate alla vostra televisione e giocate come se fosse una normale console. L'altra modalità invece è quella della modalità di gioco tra virgolette portatile, per cui agganciate i vostri Joy-Con in questa posizione e trovate con, vedete, i Joy-Con connessi, la possibilità di giocare anche appoggiando su una superficie il vostro tablet. Al momento dell'accensione potete essenzialmente continuare quello che avete fatto fino a quel momento, vedete qui sto sbloccando essenzialmente il sistema, stavo giocando a uno dei tre giochi che ho scaricato, in questo caso è Fast, poi ho preso anche Super Bomber, o a casa anche One-Two-Switch, però ecco la disponibilità di titoli non è che sia esattamente il massimo. La realtà è che comunque l'interfaccia di questo oggetto è veramente molto 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 limitata. Allora, il Nintendo eShop, le notizie che vi danno, vediamo essenzialmente carico le notizie, vedete che vi danno delle informazioni che arrivano dal mondo Nintendo e magari anche tutorial con cui potete entrare, insomma nel mondo Nintendo c'è la possibilità di entrare nel eShop, quindi nel negozio elettronico di Nintendo, andiamo a vedere un po' che tipo di applicazioni trovate nel eShop e anche che tipo di interfaccia viene offerto. Allora, vedete le uscite recenti sono Zelda, Super Bomber, Switch e poi essenzialmente in questo momento non viene offerto granché, mentre vedete prossimamente i titoli promessi a brevissimo sono quelli che poi conosciamo tra l'altro, i titoli che sono Blaster Master Zero, poi abbiamo in arrivo anche Splatoon 2, Mario Kart nella sua versione, Mario Kart 8 nella versione Deluxe e poi ancora Arms che è altro titolo in arrivo tra un po' per Switch. Diciamo ecco che la disponibilità di giochi è un po' limitata, questo potrebbe essere uno dei problemi che probabilmente potrebbe riscontrare Nintendo Switch quando si tratta di affrontare la competizione con altre console che invece magari sono un po' più mature e che hanno soprattutto un parco giochi molto 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 più vasto. Certo, poi c'è la compatibilità con altri titoli, per cui se non vado in reto adesso la disponibilità totale è di circa 119 titoli, ma insomma per Nintendo Switch siamo ad un numero veramente limitato. Ecco, come funzionano Joypad? Questo pulsante, ad esempio questo, vi permette in qualunque momento di schiacciare uno screenshot di quello che state guardando. Vedete, voi schiacciate il pulsante qui cattura eseguita, quindi potete screenshotare in qualunque momento il vostro gioco. In questo punto invece avete il tasto Home, quindi schiacciando il tasto Home potete o tornare alla vostra Homepage oppure al gioco che stavate utilizzando. Schiacciandolo a lungo invece, vedete, potete essenzialmente mettere in modalità di riposo la vostra Switch. C'è un pulsante di sblocco qua sulla parte posteriore e qui arriviamo anche alla possibilità, alle varie possibilità di gioco. No, una potrebbe essere quella, ad esempio, mettendo il vostro tablettino in questa posizione, agganciando quello che, ve lo faccio vedere in questo modo, agganciando quella che è la parte, diciamo, complementare, supplementare del vostro Joy-Con. Si riconoscono, vedete, i pezzi con il segno più e il segno meno per riuscire a capire quali sono i pezzi. Quindi in questo modo voi piazzate il vostro Switch, insomma, vicino a voi e potete giocare anche magari con giochi in cui ci si può sfidare, quindi si può giocare l'uno contro l'altro con questa modalità che appunto è quella dell'utilizzo con, diciamo, la modalità da tavolo. E poi ovviamente c'è la modalità, diciamo, televisiva che è quella che vi permette, essenzialmente, adesso vediamo se riesco a litigare con il mio Joy-Con per riuscire a liberarlo. Ci riuscirò in qualche modo a liberare il Joy-Con che ho anche bloccato inadvertitamente. Appena riesco a liberare il Joy-Con vi mostro anche come, ecco che ce la faccio, come invece poi viene usato il Joy-Pad che, vedete, insomma, viene agganciato in questa posizione e in questo modo voi avrete i vostri comandi. Adesso riesco a sganciare anche l'altro, in qualche modo ce la farò, vedete, sto litigando clamorosamente, adesso riuscirò però a sbloccarlo del tutto e a installare il mio Joy-Pad, questo per poter utilizzare la modalità TV. Quindi avete, vedete, in questo modo, in mano il vostro controller per la modalità TV. Ci sono ovviamente anche pulsanti nella parte superiore, quindi doppio pulsante come per i Joy-Pad di Xbox e anche di PlayStation. E essenzialmente, vedete, in questa modalità usate il vostro Joy-Pad, esattamente come se fosse un normale Joy-Pad. La maneggevolezza non è il massimo, devo dire, per i Joy-Con posizionati in questo modo, ma insomma, questo è ciò che offre Nintendo. Vediamo, ecco, riporto un po' in modalità, insomma, di utilizzo, diciamo, portatile da viaggio per mostrarvi, ecco, con il pulsante sempre home potete riaccendere la vostra console, però vedete che essenzialmente non c'è molto da fare con questa console. E questo per me è un po' una delusione, perché non vi nascondo che io mi aspettavo una console che permettesse anche di navigare in internet, che permettesse essenzialmente di fare anche altre cose con il proprio sistema e invece in realtà, insomma, non ci sono grandi possibilità. C'è una cosa carina, però, che vi voglio mostrare, soprattutto se qualcuno ha dei bimbi per casa, ovvero questa applicazione che vedete sul mio P10, allora vado a prenderla qua in fondo, vedete, allora questa applicazione vi permette di gestire per quanti minuti può essere usata la console, ad esempio, da un bimbo, quindi avete tutti i resoconti mensili, avete i limiti di gioco, potete, insomma, gestire essenzialmente una sorta di parentesi dal control della Switch in modo molto carino. Io avevo settato 30 minuti, insomma, per controllare mio figlio, come, vedete, avevo settato 30 minuti, ho spostato adesso a due ore per riuscire a fare tutte le prove del caso della giornata di oggi, c'è un pin che permette eventualmente di allungare il periodo di gioco quando raggiungete il limite che è stato stabilito, quindi, insomma, potete evitare che un bambino rincoglionisca completamente davanti al suo tablettino o davanti alla televisione. Nei prossimi giorni magari entreremo ulteriormente anche proprio nel mondo di Nintendo Switch, volevo farvi vedere anche essenzialmente le impostazioni di sistema, vedete, con una voce legata al controllo della luminosità, al tipo di blocco schermo, il filtro famiglia, che è quello proprio che ho già installato, internet, quindi la gestione delle connessioni alle reti, qua avete invece il controllo della gestione dei dati, quindi potete vedere a che punto siete come disponibilità di spazio, qui gestite i vostri utenti che ovviamente sono i più svariati, i Mi invece sapete che sono quelli che si possono utilizzare con i software dei vecchi prodotti di Nintendo e poi avete la possibilità di scegliere tra un tema bianco oppure un tema nero, vedete, un tema più scuro per quanto riguarda la gestione del vostro tablet e poi la modalità di riposo essenzialmente che viene inserita automaticamente dopo un tono di minuti in cui non si utilizza il sistema. Avete la possibilità di controllare la risoluzione TV e anche la gamma cromatica e quindi essenzialmente questi sono tutti i controlli che avete a disposizione, nickname, lingua, data, ora, livello di batteria, il tipo di audio che volete riprodurre se in stereo o in mono. Insomma questa è la Nintendo Switch nei negozi proprio in queste ore, fatemi sapere se è un oggetto che vi stimola, che vi interessa, che vi diverte oppure no e soprattutto se qualcuno di voi l'ha già acquistata, fatemi sapere come vi trovate. Ciao da Mr. Gadget!